Benvenuti nel canale dei tifosi napoletani. Oggi ti porteremo le ultime notizie sul mercato del Napoli per rafforzare la tua difesa per la prossima stagione. Ma prima, divertiti e iscriviti qui sul canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Secondo il Corriere dello Sport, il club italiano ha avviato i colloqui con la Dinamo Zagabria per portare in campo il talentuoso difensore, croato Bosco Sutalo. Il giovane difensore 23enne è un personaggio noto in Serie A, avendo già giocato con Atalanta e Verona. Adesso Sutalo è diventato l'obiettivo principale del DS Meluso del Napoli per sostituire Kim Minjia e E, portare un'opzione solida e promettente nel settore difensivo della squadra che ha vinto lo scudetto. Il fattore che rende Sutalo un'opzione interessante è la sua valutazione sul mercato. Secondo le informazioni, la Dinamo Zagabria sarebbe disposta a cedere il giocatore per circa 20 milioni di euro, rendendolo un'alternativa migliore. Mentre il nome di Bosco Sutalo sta prendendo piede come alternativa economica, il Napoli ha un altro giocatore nella lista dei desideri, il difensore inglese Max Killman. Tuttavia, Killman è valutato 40 milioni di euro, una cifra che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe non essere disposto a sborsare a questo punto. Allora tifoso, il Napoli dovrebbe portare avanti la trattativa per Bosco Sutalo? Lascia la tua opinione qui sotto e cogli l'occasione per condividere queste informazioni. Rimani sintonizzato sul canale, attiva la campanella delle notifiche per non perdere le prossime news.